buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere due tool utili per chi opera nel settore delle cripto valute ma prima di cominciare se vi piacciono i miei contenuti vi invito ad iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro a lasciarmi un like ed attivare la campanellina per non perdervi nessun mio aggiornamento e ora senza perdere troppo tempo andiamo a vedere questi due tool indispensabili dopo la sigla sono sulla pagina ufficiale del sito di coin tool punto app vi lascerò comunque il link in descrizione e andiamo a vedere che cosa potete fare su questa piattaforma molti di voi sicuramente la conosceranno perché alcuni youtuber l'hanno presentata tempo dietro come una piattaforma che serve a creare meme token e in effetti come da lì torto questa funzione c'è la potete trovare alla voce create token dove poi vi dà la possibilità di andare a selezionare la rete sulla quale volete creare il vostro token personalizzato cliccando se bsc si apre questa schermata dove dovete andare nel caso a compilare tutti i form richiesti per andare poi a creare il vostro token il vostro meme coin questo non è un tutorial per creare il vostro token ne potete trovare tantissimi in giro sul web ma io non voglio contribuire alla possibilità di aggiungere ulteriore schifezza sul mercato delle cripto perché è inutile girare intorno un utente normale un intente medio come potrei essere io che cosa vado a creare perché devo creare un token senza utilità quindi vi chiedo gentilmente utilizzate questo tool ma non andate a creare un vostro token non andate a cercare fama e gloria con una shit coin con una scam coin perché non ha veramente senso il gioco non ne vale la candela questo tool è molto utile perché vi può dare delle informazioni molto utili a colpo d'occhio vi può dare il valore delle coin come btc e tiro un bnb vi può segnalare le cripto valute i token che stanno andando in uptrend o in downtrend vi segnala la dominas per quanto riguarda bitcoin e tirium e l'altra parte del mercato attualmente mentre sto registrando il video bitcoin a una dominas del 40.1 per cento e tiro nel 18,6 e gli odark coin 41,3 vi segnala al cripto fear grid index che vi va a misurare il livello di sentimento degli investitori attivi nel settore cripto attualmente ci va a indicare un punteggio di 22 che va a significare estrema paura sul mercato vi può andare a indicare il gas fi per quanto riguarda ad esempio e tirium con una transazione veloce attualmente si paga 4,80 dollari una transazione normale 4,39 una transazione lenta 3,91 dollari è la stessa cosa la possiamo guardare su diversi altri token e diverse altre cene andando ad esempio a selezionare la bsc vediamo che il gas price ovviamente è molto molto più basso rispetto e tirium lo sappiamo benissimo però vi va a indicare per ciascuna cendi riferimento quanto state per andare a pagare nello stesso momento in cui lanciate una transazione quindi molto utile se volete fare delle transazioni l'estate per effettuare andare a vedere sull'accendi riferimento quanto andrete a pagare soprattutto per quanto riguarda attualmente la più cara ovvero e tirium nella sezione o ditte vi permette di andare a verificare un audit di un progetto di una cripto valuta potete andare a impostare su market una visione di questo tipo una visualizzazione di questo tipo per andare a vedere subito quali cripto valute quale token stanno avendo un incremento di prezzo oppure stanno perdendo percentuali del loro valore salterò ovviamente la parte che ho detto prima per quanto riguarda la creazione di un meme token ma anche quella riguardante la creazione di un nft una sezione molto apprezzata per chi usa wallet non custodia è la sezione dell'approvazione della spesa illimitata cliccando nella sezione approva possiamo andare ad esempio sui tirium a copiare e incollare il nostro indirizzo di un vuole non custodia come ad esempio metamask cliccando sulla frecce tina ci andrà a indicare se abbiamo delle approvazioni di spesa illimitata verso dex o swap o se abbiamo delle criticità all'interno nel nostro address in questo caso il mio indirizzo di metamask e tirium è sicuro ma proviamo andare a cambiare cena ad esempio la bsc vado a inserire il mio adress sempre di metamask e vediamo che risultato posso ottenere come vedete paiono tutte queste applicazioni decentralizzate questi smart contract e mi va a indicare il livello di pericolo livello di pericolo non perché ho collegato il mio portafoglio a delle scam ci mancherebbe altro a parte potrebbero benissimo essere ma non è questo il caso ma mi va a indicare che all'interno di questi swap come ad esempio anche in suo con il contratto di velas ho dato i permessi di spesa illimitato non appena avrà finito di caricare completamente il mio wallet potrò andare a cliccare su please unlock wallet e andare a disabilitare il permesso di spesa per andare a proteggere i miei fondi ovviamente queste operazioni in qualsiasi cene hanno bisogno di un pagamento delle fee quindi sulla biana smart chain dovrò detenere delle porzioni di bnb delle piccole porzioni di bnb ma non posso comunque avere il portafoglio a zero idem su qualsiasi altra chain un'altra sezione all'interno di questa piattaforma utile a tutti è la possibilità di andare a settare su metamask qualsiasi cene senza dover andare a ricercare sul motore di ricerca o i suoi progetti di riferimento tutti i settaggi per raggiungere una rete all'interno di metamask ed è semplicissimo come vedete in alta destra c'è connetti wallet io connetto ovviamente il mio metamask e me lo riconosce in automatico ma se io volessi aggiungere una qualsiasi rete cliccando su metamask e andando alla voce aggiungerete come ben sapete dovrei andare a compilare tutti questi form di una rete di riferimento ma utilizzando questo tool cliccando qua a fianco al wallet in questo caso dove c'è scritto bsc mainnet clicco appariranno tutte queste cene e volendo cliccando su ognuna di esse può essere aggiunta in automatico al mio metamask ad esempio io non ho come cena all'interno di metamask io tex mai net clicco su io tex mai net vedete sia per la schermata del wallet appare nome rete network che ceni di io vado a cliccare su approva switch network è un automatico io tex mai net è correttamente settata sul mio metamask se clicco su metamask posso su rete principale e tirion per farvi vedere che ho settato tutte le altre cene e compare in questo momento io tex mai net altro tool un altro sito molto utile è dex screener come dice il nome è dedicato ai dex e quindi alle piattaforme decentralizzate possiamo paragonarlo in modo molto semplice a coin market cap per quanto riguarda le applicazioni decentralizzate e progetti su defy abbiamo a disposizione tantissime cene tirion bsc polygon avalanche aurora moon river non mini praticamente la maggior parte delle cene che utilizziamo e conosciamo abitualmente alla sezione trend possiamo vedere per l'appunto il trend dei token listati sui dex come ad esempio possiamo vedere che meta su vrap bnb attualmente a mente storia stando il video è in uptrend del 29,39 per cento mente golf sempre su vrap bnb pancake swap è in downtrend del 20,37 per cento nelle ultime 24 ore possiamo andare a cliccare sulle nuove coppie e andare a vedere quali coppie sono state inserite di recente ad esempio possiamo andare a vedere bt gt will tower game token il prezzo le transazioni il volume la percentuale di guadagno di perdita in cinque minuti un'ora sei ore 24 ore e la liquidity poi prendendo appunto il nome da dex screener avete lo potete cliccare qui in basso compilare questi parametri e andare a fare la scrematura delle coin andando a cliccare invece su una coppia di token si può visualizzare un grafico completo preso da trading view da liquidità la market cap le variazioni in percentuale positive e negative che stavamo vedendo prima tutte le informazioni che abbiamo visto poco fa in più possiamo aggiungere l'analista dei preferiti settare un price alert andarla a tradare su pancake swap sul dex di riferimento fare le ricerche tra l'hashtag di twitter oppure la ricerca con google o su tutte le altre piattaforme bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento e come sempre vi ringrazio per il vostro tempo e per aver passato questi dieci minuti in mia compagnia spero come sempre che il video vi sia piaciuto lo abbiate trovato utile mi raccomando se vi piacciono i miei contenuti per piacere supportate il mio lavoro iscrivendovi al canale noi ci vediamo presto ciao a tutti buona giornata a a e a